Chiara Ferragni, la regina indiscussa del fashion system, ha sorpreso tutti con un'apparizione inaspettata ai Sustainable Fashion Awards, l'evento che ha chiuso in grande stile la Milano Fashion Week. La sua assenza durante l'intera settimana era stata notata da fan addetti ai lavori, alimentando voci di corridoio su possibili impegni segreti o un allontanamento momentaneo dalle passerelle milanesi. Ma Chiara, come sempre, è riuscita a far parlare di se con il suo ritorno trionfale. Ieri sera, l'imprenditrice digitale ha calcato il tappeto rosso con un look che non è passato inosservato, un abito d'archivio firmato di Squared, una scelta che ha combinato perfettamente sostenibilità e stile. La Ferragni, sempre attenta e temi green, ha voluto lanciare un messaggio importante, scegliendo di indossare un capo iconico del brand canadese, che da tempo si impegna nella moda sostenibile. L'evento che premia i marchi e le figure più virtuose del settore in tema di sostenibilità, ha visto la presenza di molte personalità illustri, ma è stata Chiara a rubare la scena, dimostrando ancora una volta di essere una figura di riferimento, non solo per il suo stile inimitabile, ma anche per il suo impegno sociale e ambientale. ora, quando si dice, un cane che si morde la corda, è un cane che si morde la corda.